Parole che però tra i giudici del Tar vengono accolte anche in maniera, ci saranno anche delle critiche a lei, si richiama il suo ruolo di PM, di ex magistrato, non pensa che si crea una frattura tra organi e delle istituzioni? La frattura l'hanno creata loro, con un provvedimento che io trovo inaccettabile, finiamo la con le chiusure corporative, perché in questo Paese si ha il diritto di criticare i provvedimenti e quando i provvedimenti minano gli equilibri costituzionali, mettono in difficoltà chi amministra una città così difficile, mettono a rischio la coesione sociale, rischiano di creare autostrade per la criminalità, parlo come cittadino, come ex magistrato e come sindaco, senza mancare di rispetto a nessuno, anzi proprio perché ho rispetto per una determinata istituzione, la trovo umiliata da provvedimenti di questo tipo. Grazie.